Io all'inizio facevo e-commerce, facevo trading, vendevo scarpe, facevo questo e quell'altro ed ero questo. Per quando mi sono focalizzato solo sulla mia azienda, la mia azienda è esplosa da un mese all'altro e non ci vuole tanto tempo, ci vuole veramente poco tempo. Di solito i risultati si vedono, iniziano e va a vedersi entro due settimane da quando tu metti il focus su una cosa e basta e sono esponenziali dopo un mese o due mesi.